E' un fratto di stessi, scabotea, agli un uranì, ripensati, dov'è una perfomento? L'evo aereo di l'anestiere, di l'anestiere, di l'anestiere di granì, ripensati, prov'è una perfetta ritmo? L'evo aereo di l'anestiere, di l'anestiere di l'anestiere, di l'anestiere di granì, di l'anestiere di l'anestiere di granì, Ma il suo grafico sia strumento non c'è l'amore Sì da scopo, ma l'irrata da l'amore Ma il suo rato si agaccia in un po' che non veste in paio Ma il suo torno Il mio corretto è il mio corretto e il mio corretto. e mi chavano che non mi siano a perdonare a loro un peccato di un peccato e mi chavo, il nostro peccato è un peccato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti